Perfetto ci dirà sulle questioni che sono inerenti e soprattutto che interessano la nostra città in primis nel capoluogo e quindi anche le sorti della Prandina e poi tutte le dinamiche relative all'accoglienza dei profughi. Ci sono state delle garanzie precise sulla dismissione della Prandina? E' venuto a verificare che poi rispondano a verità? Non lo so, credo che l'unica garanzia sia il tempo e la temperatura che sta calando è quello che penso che sia inderogabile e preveda che non si possano tenere queste persone in quelle condizioni quindi credo che ci sia uno sviluppo che vada in quel senso. E' indubbio che il prefetto chiederà la disponibilità dei comuni ancora una volta, che tutti facciano la propria parte. Padova che farà? Padova deciderà col sindaco, con la giunta, dopo che io ritornarò in comune e riferirò sull'incontro di oggi.